Grande successo per l'anteprima del Mediterranean Track che si è svolto ieri sera al Palasele Park di Eboli. Centinaia di bambini che si sono esibiti sul grandissimo e coloratissimo palco del raduno più grande del sud Italia. In migliaia sono accorsi ieri sera per vedere lo spettacolo di ben 12 scuole di ballo, ma la festa continua e il Mediterranean Track, creato dalla famiglia Rivielio e il suo staff, vi aspetta fino a domani sera a notte inoltrata. Le Artetica, Ciro Giustiniani, Enzo e Sal e ancora le evoluzioni acrobatiche del team Bizarre. Da padrone, come sempre, la faranno le centinaia di track che stanno arrivando in queste ore dall'Italia e dall'Europa.